La parola è al Consigliere Cavallone, prego. Grazie Presidente, ma allora io volevo confermare ciò che ha detto il Consigliere Lava, nel senso che anche a me era parso in conferenza di capigruppo che, non so come dire, ci fosse stato un accordo unanime di tutti i gruppi sul fatto che bisognasse andare avanti e tirarsi indietro, in questo momento in Consiglio Comunale, davanti alle telecamere, davanti al pubblico, a me sinceramente sembra proprio demagogia, mi dispiace Claudio, tu hai detto che non è per fare demagogia, ma questa è demagogia, proprio anche perché, ripeto, andando a vedere che i costi sono più bassi, quindi sostanzialmente adesso si va a fare un investimento che viene più che ammortizzato negli anni, inoltre si risparmia carta, quindi anche, come dire, un obiettivo, magari è vero, una goccia nel mare sulla questione ambientale della spreco della carta, però comunque un obiettivo raggiunto, mi viene da dire. Seconda cosa, probabilmente non se ne è parlato molto per adesso nella discussione, ma tutto il lavoro che fanno i funzionari, tutte le procedure che vengono semplificate per ogni Consiglio Comunale fanno risparmiare, magari non in termini di soldi, ma fanno risparmiare in termini di tempo di lavoro dei dipendenti e via dicendo. Quindi, sostanzialmente, non è che questa cosa noi, o meglio, no, noi, scusatemi, i gruppi consigliari l'hanno portata avanti per, non so, avere un oggetto in più da poter utilizzare e via dicendo, ma l'abbiamo fatta perché crediamo fortemente nella modernizzazione dell'apparato comunale, nella modernizzazione della trasmissione di comunicazioni tra il Consiglio e la Giunta e anche appunto la macchina comunale in quanto uffici e via dicendo, il che porta da una parte a un risparmio economico, dall'altra soprattutto a un ammodernamento della macchina, ha un risparmio di, o meglio, una razionalizzazione di risorse e di tempo da parte degli uffici. Quindi, per chiudere, sostanzialmente, mi viene da dire che anche al consigliere D'Amico non è che bisogna andare a stampare tutti i documenti. La stampa, qua in Comune, è fatta, se una cosa ti interessa particolarmente, la normale amministrazione del consigliere comunale deve essere fatta attraverso lo strumento informatico che viene dato in dotazione, perché quello strumento ci dà la possibilità di lavorare bene con avere tutti i documenti e via dicendo. Non è il fatto che ci danno uno strumento, poi non lo utilizziamo e andiamo a usare comunque il cartaceo. Così, sinceramente, se questa è la razio, ma mi viene da dire non facciamo niente, perché se la razio è utilizzare lo strumento informatico, velocizzare, rendere multimediale tutto il discorso informatico e la comunicazione tra il consiglio, la giunta e l'amministrazione, beh, di certo non si può abusare della possibilità di andarsi a stampare i documenti. Anzi, a me viene addirittura da dire che sarebbe importante provare a non usarlo affatto quello strumento. Ecco, quindi sono molto contento, adesso chiudo Presidente, sono molto contento che l'informatizzazione della comunicazione tra consiglio e giunta e amministrazione venga fatta, anche perché è uno dei criteri oggettivi su cui si basano le amministrazioni virtuose o non virtuose. Grazie. Grazie consigliere.